Buongiorno Eccoci qui in quest'altro video dove vi insegneremo come scendere dalla montagna In moto Senza alcun graffio Senza alcun graffio non si sa Ecco qua Guardate, guardate Ammirate No, i graffi ci sono Guardate la moto Dov'è la moto? Da ammirare Ma dov'è la moto? Eh, stava volando laggiù Tutto bene, tutto bene Arrivederci Arrivederci questo corto video Però volevamo farvelo vedere Così non so, abbiamo tempo